Musica Piazza del Popolo grimita oltre ogni aspettativa per CNA Idei Moda la sfilata live ideata dal segretario provinciale della CNA Morino Bordoni è diventata ormai una delle più importanti di tutta Italia Sono davvero molto orgoglioso di presentare questa undicesima edizione nel Salotto Buono della Città torniamo in Piazza del Popolo e ci torniamo da protagonisti nel giorno in cui festeggiamo non soltanto il settantesimo anniversario ma siamo anche nei mesi in cui abbiamo rinnovato per quattro anni le nostre cariche elettive quindi un 2017 molto importante per la nostra CNA, per la nostra organizzazione e oggi vogliamo essere di nuovo protagonisti perché penso che ce lo meritiamo il ritorno nel cuore del centro storico è stato accolto da quasi 5.000 persone a corse per l'ormai tradizionale appuntamento con la moda e il fashion ma anche per le tante stare subrette televisive ospiti dell'evento in una edizione dedicata alla moda mare, agli abiti da donna e da sposa agli accessori e alle calzature sono stati tanti i protagonisti come la showgirl Nathalie Caldonazzo l'ex Miss Italia Claudia Andreatti la cantante DJ di Radio Monte Carlo Chris Riccio Poi che palco, mamma mia, già due giorni fa l'organizzazione mi hanno mandato una foto del palco e ho detto wow ma veramente sarò su questo palco? No, è impressionante sono davvero felice e fiero di farne parte di stasera Il più atteso invece soprattutto dal pubblico femminile è stato lui l'affascinante attore di fiction Roberto Farnesi caccia di selfie dunque e tanti applausi anche per la nuova presentatrice della sfilata Barbara Chiappini che ha condotto l'evento insieme all'ex inviato di Striscia la Notizia Marco Moscatelli durante la serata non sono mancate le sorprese a cominciare dall'ingresso del cantante e imitatore Francesco Capodacqua della scuola Amici e protagonista del musical Giulietta Romio Arriva Max Pezzali degli 883 che dice Ti supererò Ciao a tutti In amore andrò E dove non hai mai sognato Di arrivare tu Adriano Sudentano, vieni Adriano Me le invenderò E buonasera a tutti Ciao Sto spaccando il cuore E trovo immersi nel rosso reddanti Amore mio Un'esibizione di altissimo livello così come quella del sassofonista Alex Di Rocco e la cantante Marta Porrà Occhi puntati ovviamente anche sul defiletti ha visto sul palco 18 tra modelle e modelli di ogni nazionalità con i migliori capi di ditte esclusivamente marchigiane una vetrina importante dunque per le imprese del settore che anche quest'anno si è conclusa con un grande successo